Ecco, questa invece è una copia di una delle opere fondamentali di Piano Adriangelo Secchi, Il Sole, e l'edizione italiana del 1884 che uscì a Firenze dalla tipografia della Pia Casa di Patronato. La sfogliamo, ci sono naturalmente un sacco di stampe, anche molto interessanti, molto belle, qui mostra proprio la rotazione solare, andiamo avanti, vediamo un po', ci sono anche degli spettri, Sì, nel suo momento è quello. Eh sì, bene, poi il padre Angelo Secchi è stato, ecco. Ma ce ne deve essere anche una in colore, mi pare, adesso non mi ricordo perché io me ne sono sgrugnati parecchi anni fa questi.